Ancora atti vandalici all'interno della riserva naturale del Borsacchio. A denunciare l'accaduto sono stati i volontari che ogni giorno percorrono l'area protetta tra Roseto e Cologna. Hanno trovato evidenti segni di passaggi di mezzi pesanti, verosimilmente di fuoristrada. Non è purtroppo la prima volta che accadono episodi di questo genere, molto spesso di notte, quando i controlli all'interno della riserva sono praticamente inesistenti. La riserva non riesce più a sostenere, stiamo già registrando drastici cali nelle presenze di specie di flora e fauna. Ad esempio è rimasto dopo gli atti vandalici furti un solo giglio di mare e la presenza del fratino è a forte rischio. La scorsa notte c'è stato un raid notturno da parte di criminali che di notte in piena illegalità si sono messi a scorrazzare con dei SUV, delle Jeep all'interno della riserva, distruggendo le dune e gran parte di quel lavoro che abbiamo fatto per tutelare il fratino. Ci sono anche purtroppo delle discariche? Purtroppo abbiamo censito e lanciato un'applicazione di segnalazione da parte dei cittadini attraverso gli strumenti più diffusi, cioè smartphone e mappe Google. E già siamo a 72 fra le segnalazioni di privati e le discariche che abbiamo censite. È una situazione veramente difficile. Avere una riserva senza una pianificazione, aver fatto una pista ciclabile, senza pali di limitazioni delle dune, senza barchi controllati, perché passare sopra le dune fa male all'ambiente. Andare con i cani sciolti durante il periodo di riproduzione del fratino, che ricorda una specie rarissima a rischio di estinzione, il simbolo della riserva e fa tanto punteggio anche per l'assegnazione della bandiera blu. L'estate ormai è alle porte e nonostante le difficoltà stiamo continuando a darci da fare. E il nostro lavoro ormai comincia a dare dei frutti. Lo posso annunciare adesso, diciamo come in anteprima, per la prima volta all'interno della riserva Borsacchio verrà organizzata una gita da Piacenza. Voi immaginate che, grazie al nostro lavoro, una scuola di Piacenza ha deciso di venire a trascorrere per notare a Rosedo per visitare la riserva più giorni.